Riprendiamo i nostri talk e in questo caso in compagnia di Laura Delisa che con il suo team lavora attivamente su tutta la finanza agevolata, in particolare l'industria 4.0, gli incentivi alle aziende. In questo periodo ho particolarmente impegnato con tutte le possibilità di incentivi che ci sono. Oggi Laura ci ha proposto un titolo particolarmente accattivante, il consulente 4.0 e l'approccio olistico al cliente. Di sotto quando si parla di 4.0 si pensa soprattutto a digitalizzazione e tecnologia. Però Laura ci vuole presentare quella che è l'evoluzione della figura del consulente, che cosa sta cambiando nelle aziende e come deve cambiare anche l'approccio di chi fa consulenza per essere sempre più vicino alle richieste delle aziende. Quindi Laura ti lascio lo schermo e grazie, a dopo. Grazie a te, grazie a te Elia. Eccoci, prima avevo già avviato la condivisione, ma per tanto molti di voi mi conoscono, sapete che mi muovo sempre in modo vulcanico. Allora la metto in modalità presentazione magari. Ecco, così diventa un po' più scorrevole. Allora, esatto, l'approccio olistico al cliente. Intanto per olistico, diciamo, diamo già un significato di questo aggettivo, significa considerando il tutto, considerandolo nell'insieme il cliente. E quindi non solo la dimensione aziendale, ma anche la dimensione umana, che volendo fare un'estrema sintesi è esattamente lo spirito della rivoluzione 5.0. Facciamo però prima una panoramica delle industrie, come siamo arrivati all'industria 4.0 e perché adesso si parla di industria 5.0. Intanto ogni industria corrisponde ad una rivoluzione industriale e ogni rivoluzione industriale corrisponde ad un avanzamento tecnologico significativo che ha determinato un'evoluzione aziendale in primis e in seguito un'evoluzione culturale. Ricordiamo che la rivoluzione è per esempio relativa all'introduzione del vapore nei processi industriali e quindi l'inizio della produzione di massa a partire dal settore tessile e il rafforzamento della comunicazione perché l'energia a vapore è stata fondamentale anche per lo sviluppo della rete ferroviaria. Sono nate le prime ferroviarie con l'industria 1.0 e quindi quella rivoluzione dapprima manifestatasi nell'ambiente aziendale perché le tecnologie incontrano sempre i capitali privati in primo luogo oppure delle grandi monarchie come nel caso dei Borboni che per esempio sono stati i primi a realizzare a Napoli la ferrovia che li collegava alla loro stazione meteorologica, alla loro casa di vacanze a Portici. Ecco perché vantiamo questo primato in Italia perché ci sono sempre i capitali che finanziano la tecnologia, l'arrivo della tecnologia si diffonde e da questo poi deriva la rivoluzione culturale, inevitabile perché cambiano i consumi e quindi anche i mindset delle persone. La prima rivoluzione industriale quindi è stata un vero e proprio sconvolgimento, cioè probabilmente la psicologia volendo usare un approccio olistico anche nell'interpretazione degli eventi storici è nata in quel periodo proprio perché è stato l'inevitabile accompagnamento culturale e sociologico dell'innovazione data dall'impiego industriale del vapore. E poi c'è stata a seguire un'altra importantissima innovazione ed è quella dell'utilizzo dell'elettricità per la produzione di massa. Già sui primi del Novecento questo dal punto di vista invece culturale ha cambiato in modo significativo i consumi e le abitudini delle persone. E qua vi dico pure un altro aneddoto, la città di Milano proprio alla Galleria Vittorio Emanuele è stata una di quelle che ha visto per prima l'utilizzo al sistema addirittura mi sembra fosse continuo di rete, quindi anche più significativo e impegnativo da produrre. E comunque l'elettricità per la Galleria a servizio delle prime forme di shopping che siamo stati noi italiani ancora una volta a portare. Quindi non solo la ferrovia ma anche l'impiego dell'elettricità al di fuori dell'ambiente aziendale o di sperimentazione per portare poi delle rivoluzioni culturali. Quindi esempio di rivoluzione culturale 2.0. E poi arriva il 3.0, qua già siamo oltre il dopoguerra, più anni 70 anzi in realtà, con l'avvento dell'elettronica. Quindi dal sistema elettrico all'elettronica e qui è stato poi fondamentale nel 3.0 l'avvento dei chip. Si è passati da un punto di vista informatico digitale dai semiconduttori, quindi sistemi che funzionavano come i magneti in sostanza per farvela semplice, a dei chip, quindi dei piccoli circuiti che avessero all'interno delle informazioni che consentivano agli informatici dell'epoca di non dover andare fisicamente utilizzando delle grosse schede a far attivare i computer, ma che potevano esistere delle piccole schede che consentivano con maggiore efficienza di trasportare dati e istruzioni e far girare i programmi. E tutto questo dal punto di vista della rivoluzione industriale ha portato dei cambiamenti significativi, migliorando ulteriormente la produzione di massa e eliminando da quella che era la sfera d'azione dell'uomo quelle azioni più ripetitive e anche dannose da un punto di vista psicologico che portava in sé la prima e in parte anche la seconda rivoluzione industriale, cioè la produzione con catena di montaggio e sistema tayloristico. L'elevata parcellizzazione era anche un po' frustrante per l'animo umano e quindi dal momento in cui c'è stata la rivoluzione dell'elettronica si è cominciato questo cammino verso l'umanocentricità con l'abbandono delle procedure di carattere più meramente iterativo e meno interessanti proprio per i lavoratori. Infine siamo approdati di recente nell'epoca più moderna ai sistemi cyberfisici integrati attraverso la 4.0, quindi non solo l'energia elettrica che diventa elettronica e si trasforma a servizio dell'uomo in attività anche programmabili, ma addirittura questi sistemi programmati prima nati come stand alone e quindi fine a se stessi diventano con la 4.0 dei sistemi interconnessi. Poi vedremo nella slide successiva quali sono le tecnologie abilitanti che ci hanno migliorato la vita dal punto di vista industriale come 4.0. Però appunto queste rivoluzioni industriali hanno anche portato con sé delle significative rivoluzioni culturali proprio perché la tecnologia nasce nell'ambiente industriale o della ricerca o insieme, spesso e volentieri, ma deve poi, anzi trova poi naturalmente una sua collocazione. In questo magari vi ricorderete, io me lo ricordo da economia e gestione dell'innovazione, la legge di Metcalf e la legge di Moore che in sostanza ci hanno insegnato che più una tecnologia si diffonde, come è stato per esempio il caso della mail, più questa ha un'utilità per spostare in alto l'asticella del PIL che può essere generato da un paese. Quindi Industria 4.0 significa anche maggiore potenzialità di crescita per l'intero sistema azienda. Però l'aspetto umano è quello invocato dalla 5.0, che rega con sé tre pilastri fondamentali. Il primo è quello dell'umanocentricità e quindi il fatto di riportare l'uomo nei servizi e nelle attività che più gli danno beneficio, soddisfazione e autostima anche in quello che fa, cosa molto diversa da quello che sperimentavano quelli che prima di noi si cimentavano a essere parte delle catene di montaggio per fare il modello T della Ford, tanto per dire. L'altro pilastro altrettanto fondamentale è quello della sostenibilità, la sostenibilità ambientale, volendo parlare di un termine poco inflazionato in questo momento, il PNRR, è un pilastro del PNRR, la sostenibilità non è soltanto la seconda missione del PNRR, ma è anche una componente imprescindibile di tutte le altre cinque missioni di finanziamento da parte della Commissione Europea. E sostenibilità in termini di efficientamento energetico, di produzione di energia con modalità alternative e poco impattanti sull'ambiente, riciclo del ciclo delle acque, insomma conosciamo la sostenibilità, ci sono nostri colleghi che sanno introdurci anche meglio di quanto possa fare io all'argomento. E tutto questo all'insegna del terzo pilastro, perché il terzo pilastro è quello veramente portante della rivoluzione culturale 5.0, e cioè la resilienza. Anche questo termine molto inflazionato, in termini semplici non significa altro che la capacità di adattamento. Noi uomini siamo naturalmente dotati di capacità di adattamento, ma come dire, le tecnologie, l'abbiamo visto in questo rapido escurso storico al quale vi ho introdotto, le tecnologie hanno inevitabilmente portato a delle modifiche nei consumi, perché quella sticella di pil che si sposta per effetto della legge di Metcalf e di Moore, comunque si traduce in un maggior sforzo dell'economia, anche in termini di consumi, proprio per tornare all'equazione del pil che abbiamo fatto in macroeconomia, e quindi deve inevitabilmente comportare delle azioni da parte della popolazione. Ecco perché determinati settori e start-up riescono a trovare maggiore slancio in paesi che hanno una demografia più interessante, tipo l'India e la Cina, perché è importante anche che ci sia la gente, quindi la dimensione umana, che cambia i suoi comportamenti di consumo, dimostrando quindi un adattamento e quindi una resilienza alla nuova tecnologia. Quindi la resilienza in questo senso pervade sia il tema della sostenibilità che quello dell'umanocentricità, quindi dobbiamo imparare nuovi modi e nuove capacità di adattamento rispetto al circostante, è cosa che facciamo dall'età della pietra. Le tecnologie abilitanti dell'attuale rivoluzione industriale sono fondamentalmente queste nove, quindi soluzioni di manifattura avanzata con robot che sono collaborativi, interconnessi anche ai sistemi gestionali, quindi la produzione che riesce ad aiutare quasi in via automatica e il marketing e poi tante altre tecnologie, le stampanti 3D interconnesse, la simulazione tra le macchine, quindi questo consente di minimizzare tantissimo i costi per prove e sperimentazioni ed è importante questo aspetto perché questo vuol dire che anche micro imprese e piccole imprese possono performare delle attività, tentare delle produzioni, raggiungere delle produzioni pilota con costi nettamente inferiori rispetto a quanto avveniva in passato e questo è un fattore di grandissimo dinamismo per l'economia e quindi poi l'utilizzo dei dati in cloud che consente di preservarne meglio la sicurezza in caso di attacchi a nodi fisici dell'area aziendale per esempio e poi ovviamente la raccolta e l'analisi di big data che consente cosa? Di essere più accurati e anche fornire una qualità maggiore rispetto all'output desiderato che sia un servizio, che sia un prodotto, che sia un servizio per esempio di intelligence finanziaria, che sia un prodotto ad elevata performance tecnologica come un software attagliato a delle esigenze di un'azienda che ha una timeline di produzione molto stringente. Quindi quali sono i benefici che hanno portato queste tecnologie? Flessibilità chiaramente per le ragioni che dicevamo prima, quindi la programmabilità anche a distanza di macchine direttamente, che poi si collegano direttamente con il sistema gestionale per valutare in tempo reale o poco più il costo opportunità di una linea di produzione piuttosto che un'altra e quindi velocità, produttività e qualità vanno da sé e tutto questo si traduce chiaramente in una maggiore competitività del prodotto. Ma non di meno i tre pilastri della 5.0, tenuto conto di quello che comportano e quali sono le tecnologie abilitanti della 4.0, sono comunque significativi perché l'applicazione dei principi della 5.0 non è altro che l'autoconsopievolezza del sistema azienda che diventa quindi corresponsabile del benessere non solo tra le mura aziendali ma anche del benessere del pianeta che lo circonda. Quando c'è stato il miracolo economico dopo la seconda guerra mondiale sono esplosi i distretti industriali in tutta Italia, i distretti conciari ne sono un esempio che sono anche un'eccellenza dal punto di vista della qualità, ma quando sono nati non c'era questa grande attenzione all'ambiente e quindi proprio per tornare all'esempio conciario, i distretti di Arzignano ma anche il distretto di Solofra sulle Pelleovine e per non parlare poi di quello di Santa Croce hanno avuto problemi nella gestione del cromo esavalente e quindi adesso questa attenzione è fondamentale alla luce del protocollo di Kyoto, del Green Deal e di quelle che sono le tematiche previste dall'agenda 2030 a 2050. Quindi la 5.0 genera maggiore attrattività per chi lavora per aziende che siano socialmente dal punto di vista ambientale responsive, quindi che si sentano responsabili e che intervengano a favore di queste tematiche, quindi non solo attrattive per chi ci lavora ma anche per chi ci investe, per i consumatori, per i clienti, per i fornitori. Quindi la 5.0 porta con sé un cambiamento dei modelli di business che sono più circolari con un aumento della parte della componente di servizio ai clienti, le aziende passano da fare semplicemente produzione come era fino alla 3.0 a fare anche poi una personalizzazione successivamente per esempio in termini di customer care e quindi di servizi post vendita, anche facendo delle alleanze strategiche con altre aziende. e quindi viene stimolata una produzione di massa che però sia personalizzata, one to one e viene migliorata quindi in tal senso anche l'adattabilità dei processi di produzione. Adesso anche dei macchinari molto più piccoli grazie ad esempio proprio alle stampanti 3D sono in grado di performare attività che prima non si riusciva proprio a realizzare nelle aziende. Noi abbiamo tra i nostri clienti, a proposito di stampanti 3D, un'azienda, un gruppo di aziende che sta realizzando, sta stampando dei modelli di organi che abbiano delle problematiche per aiutare cliniche private, ospedali per gli interventi più sfidanti e quindi minimizzare i rischi nel momento in cui avviene l'intervento vero e proprio. e il lavoro, il lavoratore quindi in questo senso con la 5.0 viene considerato un investimento quindi si investe sul lavoratore quando si è 5.0 come formazione, come responsabilità, come stimolo alla sua autostima e credo che nel RSM noi facciamo un grande sforzo in tal senso. La 4.0 è l'espressione poi della 4.0 nel virtuale, quindi come 5.0 l'espressione per eccellenza è il metaverso, è un settore, un'area di business quella del metaverso che fino al 2020 era 50 miliardi di dollari, abbiamo superato abbondantemente ad oggi questo valore si stima che nel 2024 si arrivi addirittura a 800 miliardi di dollari quindi c'è un moltiplicatore stimato sul valore del metaverso veramente significativo ormai è quotidiano leggere di grandi aziende che si spostano sempre più sul metaverso come per esempio Adidas, come per esempio anche Wurt per i cambi che manifesta che il metaverso viene utilizzato anche dal comparto manifatturiero oltre che dal settore della moda, degli influencer e dell'arte e tra questi uno che ha saputo come cogliere le opportunità del metaverso è proprio sempre lui Zuckerberg che il 28 ottobre 2021 trasforma Bye Bye Facebook appunto e trasforma il mondo Facebook, Whatsapp e i social a questo collegati in meta anche Goldman Sachs ormai fa parte del progetto Facebook e quindi adesso anzi del progetto meta ciò farà supporre che questa nuova dimensione dei social anche questi rivolti al metaverso renderà sempre più plausibile la cifra appunto stimata di 800 miliardi di dollari e quindi sarà sempre più espressione di come la 4.0 si traduce nei pilastri della 5.0 ma il vero presupposto per poter essere compliant come termine che siamo abituati tanto ad utilizzare con la 5.0 è l'intelligenza emotiva anche questa viene spesa ormai in qualunque ambito Goleman è quello che ha introdotto questo topic dell'intelligenza emotiva ma anche tanti altri autori l'hanno sviluppata l'intelligenza emotiva in relazione anche agli ambiti di maggior impiego che sono soprattutto quelli del commerciale e della rappresentanza ma non sono l'intelligenza emotiva in termini pratici che cos'è che cosa si intende cioè la capacità di comprendere e gestire le emozioni questa è una definizione che viene data sull'argomento dalla Michael Page che è una società internazionale di recruitment penso che tutti la conosciamo e individua dei driver fondamentali delle competenze fondamentali alla base dell'intelligenza emotiva che sono la consapevolezza di sé la capacità di autocontrollarsi la motivazione cioè essere persone determinate l'empatia con il prossimo e quindi sviluppare anche delle abilità sociali quindi non è un'intelligenza fine a se stessa è un'intelligenza che si relaziona volendo fare un'estrema sintesi e vivere il lavoro vivere la propria vita impiegando l'intelligenza emotiva comporta cosa? che si crea una maggiore empatia nel lavoro di team quando qualcuno di voi si trova sovraccaricato da pratiche magari può parlare col collega quindi parlare, interagire, interfacciarsi è importante anche quando siamo a distanza anche quando siamo in smart working e dire senti io non ce la faccio ma tu hai visto per caso un caso come questo mi puoi dare una mano lo puoi gestire tu hai una mail già fatta che lo posso usare come modello ecco questa empatia appunto è comunque frutto dell'impiego di intelligenza emotiva orienta il problem solving proprio l'esempio di prima è molto causante in questo senso anche sotto pressione e stimola anche alla comprensione dei reali bisogni aziendali che sono quelli inevitabili quando sotto scadenza dici no ma dobbiamo far tardi oppure può succedere che questo sabato magari ci vediamo un attimo per confrontarci sempre con un approccio rispettoso ed empatico alla fine è un modo di impiego dell'intelligenza emotiva l'intelligenza emotiva ci apre anche ai clienti perché li sentiamo come parte di noi cioè come alla fine il fattore principale di nutrimento del team e quindi avere un'autoconsapevolezza comporta anche un miglioramento delle interazioni non solo con gli altri ma anche con i clienti e soprattutto ispirare le risorse ad impiegare intelligenza emotiva aiuta anche i manager, i senior a essere un'ispirazione a consolidare la propria leadership nei confronti dei colleghi volendo portare questo poi al confronto che abbiamo con i nostri clienti e quindi dare praticamente un risvolto come dare praticamente un esempio di consulente 5.0 al servizio dei clienti vuol dire conoscere se stessi ecco perché vi ho riportato la frase dell'oracolo di Delfi notis audon spero di averla pronunciata bene perché non ho fatto greco e vuol dire conosci te stesso chiunque entrasse nel tempio dell'oracolo a Delfi nel tempio di Apollo sapeva che prima della risposta dell'oracolo doveva conoscere se stesso per poter interpretare bene la profezia e quindi anche noi quando ci approcciamo ai nostri clienti dobbiamo cercare di conoscerli sia nella loro dimensione aziendale e qui vi ho riportato degli esempi di come approcciarsi alla dimensione aziendale in modo alternativo ma anche rispetto alla dimensione umana approcciarsi alla dimensione aziendale usando una chiave olistica può consistere nell'analizzare la storia del cliente ecco perché vi ho messo il cartello passato, presente e futuro cioè a partire dalla visura che ci racconta che cosa è accaduto in quell'azienda fin da quando è stata costituita ad oggi analizzando anche l'ultimo bilancio depositato il registro nazionale degli utili di Stato in qualche modo facendo crescere la nostra esperienza e arricchendoci anche di stimoli diversi da quelli che possiamo ricevere semplicemente dall'aggiornamento normativo da solo 24 ore eccetera ma anche riviste di altro genere di carattere tecnologico più vicine ad esempio ai settori dei nostri clienti siamo in grado di mettere insieme le informazioni che leggiamo dal bilancio che altrimenti ci sembrerebbero come delle caselle fine a se stesse però se noi vediamo che un'azienda da anni senza nessuna senza neanche una riga di indebitamento con le banche poi passa ad avere un significativo indebitamento cioè ci deve balzare all'occhio non solo come una riga in più nella sezione D dello Stato patrimoniale ma dovremmo chiederci magari vedendo dal registro nazionale agli utili di Stato se c'è stato un intervento di una garanzia statale se c'è stato un progetto di fondo per cui si è avuto quel finanziamento se c'è stato un evento tecnologico importante che ha condizionato il settore del nostro cliente cioè viviamo più immersi nella realtà del nostro cliente e analizziamo quello che ha fatto nel passato qual è la sua potenzialità nel presente e magari facendoci dare anche un suo piano di investimenti cerchiamo di cogliere dal suo punto di vista quale può essere un possibile un potenziale scenario futuro quindi il nostro mantra deve essere interagisci e interessati comprendi i fabbisogni metti al centro le persone a partire dai colleghi e poi a seguire con i nostri clienti valuta la strategia il processo dei prodotti dal punto di vista del consulente che è esterno ed è imparziale rispetto a quell'azienda noi abbiamo il vantaggio di lavorare per tanti clienti e tanti settori e quindi farci anche mentalmente degli schemi rispetto alla situazione media la posizione media sul mercato mettiamo a sistema le informazioni che abbiamo per aiutare il cliente a trovare le risposte e poi poniamoci a suo servizio e quindi accogliamo la servitizzazione della 5.0 individuando i fattori critici di successo su cui deve puntare magari diversi da quelli che aveva ipotizzato nel piano di investimento e quindi quale sia il percorso migliore per lui per adattarsi ai cambiamenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti